La ringrazio perché è stata rilanciata la questione della fenomenologia nel suo possibile legame con il pensiero di Rosmini. Questa è una tesi che ho cercato di rilanciare in diverse occasioni e sono contento che la professoressa Lesbello abbia definita quella di Rosmini un'analisi anteditteram fenomenologica. In passato mi sono più cimentato sulla linea Husserl-Hildebrand-Seifert. Adesso farò un tentativo molto azzardato con Marion per dimostrare alcuni aspetti interessanti dell'ipotesi fenomenologica e di Jean-Luc Marion, ma al tempo medesimo anche gli aspetti evidentemente problematici. Immagino, la professoressa Lesbello lo conosce da tempo, che lui avrebbe avuto qualche difficoltà ad accettare già il titolo di questa mia donazione ed essere una rilettura fenomenologica dell'ontologismo. Allora, io mi chiedo quali sono le finalità del mio breve intervento che procederà più per flash che per rigorose argomentazioni, ma dopo ripresenterò tutto nello scritto. Le questioni, è possibile ridefinire e quindi giustificare l'ontologismo? È possibile proporre una versione, tra virgolette, ortodossa dell'ontologismo? Ovvero, può l'ontologismo riproporsi dopo la cosiddetta crisi o fine, cosiddetta, dico, della metafisica? E può l'ontologismo, l'ontologismo ortodosso, dare un contributo alla rigenerazione del pensiero osminiano? Ci sono chiaramente delle sottopuestioni, ovvero la questione per l'appunto dell'ontologismo ortodosso. Questa è una citazione di un teologo e filosofo che ritengo geniale, ed è Elmar Salman, il benedettino, il quale in uno suo scritto, e dopo vi leggerò un pari di stratti, parla appunto della possibilità dell'ontologismo ortodosso da distinguersi dall'ontologismo condannato o dall'ontologismo sospetto. Poi, è possibile ridefinire l'ontologismo attraverso un metodo, quale è quello fenomenologico? E' possibile rifondare una filosofia dell'essere partendo da assunti fenomenologici? E' possibile, e qui cito un altro autore che è stato richiamato più volte ieri, ridefinire una filosofia cristiana per essenza, diceva lui all'Udo del Noce, dopo la cosiddetta crisi della metafisica, se vogliamo di certa metafisica, e quale contributo può dare l'ontologismo ad una rilettura del pensiero di Rosmini nella tardo-modernità, seconda-modernità, iper-modernità, cioè le espressioni sono le più diverse. Perché ho scelto la tematica dell'ontologismo? Un po', ve lo chiarirò alla fine, la persuasione nasce dall'interesse per la tematica che aveva manifestato Augusto del Noce, e in particolare nella definizione, in realtà, quasi la bozzata della cosiddetta via franco-italiana che lui dice di essere alternativa rispetto alla via franco-tedesca. E poi per il rilancio dell'ontologismo che è stato fatto da parte di Salman. Io seguirò un po' questo schema, ovvero alcuni tratti della fenomenologia della donazione, nella versione di Marion, che è quello che è più potentemente rilanciata, una rilettura fenomenologica di Rosmini, riprenderò alcune questioni che ho già affrontato in passato, la possibilità appunto di definire un ontologismo rosminiano come un ontologismo ortodosso, l'individuazione quantomeno di alcuni elementi rigeneranti dell'ontologismo, e quindi la possibilità di rilanciare anche il pensiero rosminiano attraverso la rilettura fenomenologica dell'ontologismo. Allora, la fenomenologia della donazione. La fenomenologia, ci è stata già ben spiegata poco fa, è un metodo, ma al tempo stesso anche una filosofia. È, come diceva il mio maestro Seifert, non un metodo, ma il metodo. È talmente metodo, diciamo, per Marion, da essere persino un contrometodo, cioè un metodo inevitabile. Perché la scelta della linea fenomenologica, perché, come diceva Husser, punta alle cose stesse, a ritornare alle cose stesse. Vuole in qualche modo sospendere i presupposti per lasciare che sia la fenomenalità a mostrarsi a parlare. Per cui sospende le precomprensioni a partire in modo rigoroso dalla fenomenalità dei fenomeni e lasciarsi condurre, appunto, dei fenomeni stessi. Aperture, quindi, alla possibilità della donazione in chiave fenomenologica, i fenomeni si danno, si manifestano, e alle virtualità nascoste nella donazione dei fenomeni. E su questo aspetto, per esempio, ritengo che probabilmente Marion potrebbe lavorare, come dire, rilanciare alcune questioni attraverso, per l'appunto, la prospettiva di lungo tratto della fenomenologia, la fenomenologia, ad esempio, realista, ma anche la fenomenologia della Stein, e anche di Rosmini. Allora, la fenomenologia, come metodo fenomenologico, ha l'obiettivo di puntare al ritorno alle cose stesse, ovvero quello di far apparire le cose, o meglio ancora, di far sì che le cose si mostrino da se stesse. Da questo punto di vista, la fenomenologia si presenta come un movimento di ritrazione della soggettività di fronte all'apparire delle cose. Cioè, quello che conta è, come dire, il fenomeno, la fenomenalità. È una pratica di ritrazione del soggetto di fronte alla fenomenalità dei fenomeni perché questi si mostrino. Quello che conta, quindi, non è, dice Marion, dimostrare ma mostrare, anche su questo serve da fare qualche ragionamento, ma lo faremo magari in altra serie. Mostrare significa far sì che l'apparenza appaia come tale, ossia che diventi percettibile in persona. Allora, ciò a cui la fenomenologia tende è l'apparire stesso della cosa in seno a sua apparenza, privilegiando la manifestazione della cosa in se stessa rispetto all'attività percettiva soggettiva. Perché? Perché l'esigenza è per l'appunto del ritorno alle cose, non investire le cose con la propria soggettività, ma lasciare che le cose, e quindi anche la propria soggettività, si manifesti per quello che è. Dice Marion, qui emerge il paradosso iniziale e finale della fenomenologia, ovvero quello di essere, ovvero il paradosso di un metodo che consiste precisamente nel prendere l'iniziativa, di perdere l'iniziativa. Da questo punto di vista, poi appunto, si presenta come un contrometodo. In questo modo, abbiamo anche una rilettura da parte di Marion di alcuni concetti chiave del metodo fenomenologico, per esempio, a proposito di costituzione come donazione di senso, dice, costituire non equivale a costruire né a sintetizzare, ma a dare un senso, o più esattamente a riconoscere il senso nel fatto che il fenomeno si dà da se stesso. La riduzione, continua Marion, sospende le teorie assurde, le false realtà dell'attitudine naturale, il mondo oggettivo, per lasciare che i vissuti facciano apparire, per quanto possibile, ciò che si manifesta come e attraverso di essi, la sua funzione culmina dunque in un'eliminazione di ostacoli alla manifestazione. La proposta del metodo, del principio della fenomenologia da parte di Marion è, si traduce nella formula, tanta riduzione, altrettanta donazione. Marion esamina tre formulazioni del principio della fenomenologia, tre formulazioni che non ritiene, come dire, portino a piena estrinsecazione quello che è l'istanza di fondo della fenomenologia, tanto apparire, tanto essere, e in qualche modo questa formula la ritiene problematica, perché in qualche modo, secondo lui, rilancia l'opposizione platonica tra apparire e d'essere, lascia un po' indeterminato il senso dell'apparire. La seconda formulazione, pienamente, è russerliana, dritto le cose, anche questa formulazione, in qualche modo, fa precedere le cose all'apparire, rischia di ridurre l'apparire al rango di via d'accesso alle cose, per cui anche questo non lo soddisfa appieno. La terza formulazione, lui cita direttamente Russerl, e viene identificata nella intuizione, e lo cita così, ogni intuizione donatrice originaria è una sorgente legittima per la conoscenza, tutto ciò che ci offre originariamente all'intuizione e alla sua effettività, per così dire in carne ed ossa, deve essere semplicemente ricevuto per il fatto che esso si dà, ma senza altrettanto, a oltrepassare i limiti nei quali si dà. in questo caso, diciamo, Marion sostiene, appunto, la validità di questa definizione, tuttavia dice che ha, in qualche modo, quasi lo svantaggio di ridurre la fenomenalità all'esclusivo campo dell'intuizione, di una certa idea di intuizione. Ecco perché lui rilancia, propone questa formulazione, ovvero tanta riduzione, altrettanta donazione. La riduzione è, lui dice, una riduzione alla donazione, cioè è la riduzione a ciò che si dona in se stesso, di per se stesso la coscienza, escludendo tutto ciò che non appare e che non si dà in persona. riduzione. Quindi, ridurre cosa vuol dire? Misurare il grado della donazione, contenuto in ogni apparenza, in modo da stabilirne il diritto ad apparire o no. Aggiunge inoltre, non c'è donazione alcuna che non sia filtrata da una riduzione, così come non c'è riduzione che non lavori per una donazione. Io credo, tra l'altro, che il tema della riduzione sia presente, e quindi in termini proprio di donazione, nel pensiero del roveretano. È chiaro che questa proposta rilancia anche una rilettura di altri principi fenomenologici, per esempio, una rilettura dell'evidenza a partire dalla donazione. L'evidenza vissuta, in qualche modo, deve essere considerata solo come luogo dell'autodonazione del fenomeno, che gli dice in evidente, che non solo si dà in carne ed ossa, si dà da se stesso, ma si dà da se stesso, a partire da se stesso. L'esigenza qual è? Quella di sancire il passaggio dall'evidenza intesa come stato vissuto di coscienza, che in qualche modo può avere qualcosa di ambiguo, all'evidenza intesa come donazione di qualcos'altro dalla coscienza, qualcosa di non cosciente, non vissuto, eccetera. Per questo, come dire, il passaggio dalla certezza soggettiva a qualcosa di inevidente, nel senso di potentemente inevidente, perché si dona. Abbiamo una rilettura della riduzione fenomenologica a partire dalla donazione, questo l'abbiamo già visto, e quindi non approfondisco. Abbiamo la rilettura della fenomenalità secondo la donazione, quello che conta appunto l'apparire in carne ed ossa, che equivale finalmente ad essere, ma essere presuppone, essere dato, eccetera. Quindi la fenomenologia presenta, dal suo punto di vista, la donazione come metodo, diremmo, necessario, e come contrometodo. Donazione che precede il dono, nel senso che postula appunto questa apertura del darsi del dato, inteso come l'atto di ciò che precede la coscienza, la costituisce a partire dall'attitudine di ricevere e di rispondere. Questo è un aspetto molto interessante, che ci dà, come dire, una visione del fenomeno, del darsi dei dati, e ci dà un'idea interessante anche dell'appunto della coscienza. Altri due aspetti, la possibilità dei fenomeni saturi, questo è un tema che trovo molto interessante, ovvero la fenomenologia apre, secondo me, la possibilità dei fenomeni saturi o paradossi, in cui l'intuizione travalica, sommerge l'attesa dell'intenzione. In qualche modo, i fenomeni saturi sono quei fenomeni che manifestano una eccedenza radicale, una estrinsecità radicale, che in qualche modo sembra non essere pre-contenuto nell'attesa. Una rilettura anche del soggetto, che lui definisce come adonato. Allora, per Marion, Marion riporta il sé del fenomeno, il centro di gravità della fenomenalità, e rilegge il soggetto, nel senso che in tale soggetto viene inteso non più come io trascendentare, nel senso di possessore, produttore del fenomeno, ma come testimone attributario della donazione. Questo è un errore, però diciamo che c'è un'interpretazione che viene letta, viene proposta da Marion, e non solamente da lui, testimone attributario della donazione, quindi come l'adonato, che si riceve in dono della donazione, e in cui il fenomeno saturo gli si offre. Allora, vado più velocemente, per il tempo scorrere, ripeto, questi sono solamente abbozzi, e andiamo alla questione della fenomenologia della donazione in Rosmini. Allora, il punto di partenza di Rosmini, così anche l'ho rilanciato in altre occasioni, è dato dall'idea dell'essere. Il soggetto è intelligente in quanto ha l'intuizione, e l'intuizione è necessariamente, lui dice esclusivamente, l'intuizione dell'essere. Come cerco di ritradurre questa prospettiva, ovvero la ritraduco così, l'intuizione come possibilità di accogliere la donazione originaria come donazione dell'essere, come apertura all'originario, come apertura alla donazione dell'essere. Il primo oggetto della mente, dice Rosmini, è il puro essere. Da un certo punto di vista, possiamo dire che tanta riduzione, altrettanta donazione, è, come dire, la donazione, come donazione dell'essere ideale, in Rosmini. Allora, il soggetto di fronte, nell'atto di intuire l'essere, l'essere che si dà, è, come dire, ritratto di fronte all'essere, perché ciò che appare, per l'appunto, è l'essere, che da questo punto di vista, che io ritraduco anche come originario, precede, anticipa il soggetto. Quindi, da questo punto di vista, c'è un'antecedenza dell'essere ideale, vedremo dopo, dell'astratto teosofico, rispetto al soggetto stesso. Anzi, è proprio quest'apertura originaria e strutturante che definisce la stessa soggettività del soggetto. Il che, a me pare interessante, perché ripropone alcune questioni fenomenologicamente interessanti. Per esempio, il tema dell'alterità. L'essere intuito è un essere radicalmente alto della soggettività e che, in qualche modo, indica in notizia, rosminianamente parlando, di qualcosa di radicalmente alto della soggettività finita. Il tema, quindi, dell'alterità, il tema del distanziamento, della distanza, e anche il tema non solo della differenza, ma anche della libertà del soggetto. Ecco, altri aspetti che certamente marionianamente non possiamo più seguire, ma è interessante, almeno nell'analisi proposta da Hildebrand, proposta, per esempio, da Seifert, è possibile cogliere alcune caratteristiche essenziali dell'essere che si dà. Per esempio, dice Rosmini, l'essere è di sua natura necessario. La necessità, ma anche, quindi, la oggettività dell'essere, l'essere, dice Rosmini, è per sé oggetto. E l'essere per sé oggetto, quindi l'oggettività quella è prima caratteristica, è essere come primo cognito, essere che è per sé manifesto, cioè manifestato e manifestante. Ecco, qui la rilettura che ritropongo è quella dell'apertura strutturante originaria all'originario come possibilità di riconoscimento dei fenomeni e di lettura dei fenomeni. dei fenomeni. La donazione quindi viene ad essere un fenomeno originario, donazione diventa donazione dell'essere nella sua idealità, ovvero donazione della possibilità di cogliere nell'oggetto, diciamo rosminianamente, tutte le cose, quindi nell'oggetto cogliere la soggettività, la sua costituzione, e cogliere anche la natura intrinsecamente donativa dell'essere. Questo mi sembra un aspetto interessante anche in riferimento a quello che si diceva ieri, cioè la possibilità di una ontologia trinitaria. Certamente l'elemento chiave è dato, o uno di un elemento chiave è dato dall'aspetto proprio del dono. E l'essere si può essere letto, questa è la mia ipotesi, in termini donativi, in una fenomenologia della donazione. L'intuizione dell'essere io la interpreto anche come un'apertura all'impossibile possibilità di Dio, come direi Mariano, l'impossibile possibilità del fenomeno saturo. Nell'essere intuito per Rosmini vi è anche la dimostrazione a priori dell'esistenza di Dio. Noi sappiamo che Rosmini propone diverse vie per dimostrare l'esistenza di Dio e certamente non è sufficiente l'essere ideale, essere ideale è sentimento, però l'essere ideale rappresenta un elemento del divino. Qui c'è una citazione della teosofia che vorrei rilanciare, ovvero nella dimostrazione a priori da noi data abbiamo una proposizione nota per sé anche rispetto a tutti gli uomini la quale è l'essere esiste e in questa si trova con la meditazione implicitamente contenuta quest'altra di esiste, non contenuta come più contiene il meno ma come il concetto del condizionato contiene implicitamente la sua condizione la quale si trae da esso per deduzione in virtù della sua correlatività e veramente se l'essere indeterminato necessariamente esiste e se per esista ha bisogno dell'ente assoluto a cui appartenga anche questo necessariamente esiste nel quale processo di Dio si vede che la proposizione di Dio esiste è una conseguenza dell'altra l'essere esiste e che solamente dopo aver tirato questa conseguenza si intende che nel concetto di Dio si contiene quello dell'esistere si sa dunque questo dopo che si sa che Dio esiste e però la notizia che nel concetto di Dio si contenga l'esistenza non è quella che ci possa dimostrare l'esistenza di Dio perché quella suppone già questa quindi l'essere è l'essere ideale intuito il reale è percepito e giudicato nell'essere per sé oggetto quindi il reale è inintuibile da questo punto di vista e qui intravediamo come dire quella che può essere l'ontologismo rosminiano ovvero l'apertura all'originario come apertura per l'appunto alla tra virgolette notizia dell'esistenza di Dio idea dell'essere dicevamo come astratto teosofico dicevamo il rilancio dell'ontologismo da parte di Del Noce e Salman non sono gli unici c'è anche Carbellese ma per evidenti motivi ho preferito soffermarmi su Del Noce e Salman Del Noce questa questione è risultata da sempre direi interessante la sua posizione è però maturata anche cambiata radicalmente nel tempo noi sappiamo che nella voce l'ontologismo che lui ha curato per l'enciclopedia filosofica del 58 lui dice oltre ad altri significati meno specifici poco più avanti il termine ontologismo è stato soprattutto osato a designare la teoria secondo cui la conoscenza di Dio per intuizione a priori visione e la condizione di possibilità di ogni altra conoscenza successivamente nel problema dell'ateismo Del Noce definisce imperfetta e inadeguata questa sua definizione e nel testo il problema pascale dell'ateismo contemporaneo dice c'è pure nella tradizione si riaffermerà dopo pascale da malbranche sino monosmini una corrente religiosa che procede da sant'agostino e che con termine approssimativo per gli equivoci che può generare si suol chiamare ontologismo e se insiste sul contatto immediato e vissuto dell'anima con Dio esperienza diretta sullo sfondo della quale le prove di Dio prendono senso e valore successivamente nel saggio del 67 intitolato a proposito una nuova edizione della teosofia Del Noce indica nella teosofia la più rigorosa forma di ontologismo separato da razionalismo ovvero al tempo stesso dice la più rigorosa critica dell'ontologismo nel senso però di posizione esposta al rovesciamento in razionalismo e in immanentismo qui poi c'è un'altra citazione interessante più avanti dice che quella di Rosmini è la filosofia intesa a definire la forma della presenza della verità trascendente alla nostra mente vero è che il termine ontologismo è ambiguo può significare che la diretta e mediata intuizione di Dio è la condizione in ogni conoscenza umana in questo senso fu condannata dal Vaticano I come posizione logicamente vicina al razionalismo e al panteismo diversamente da ciò che comunemente si pensa ad osservare che i teologi del Vaticano I operino una distinzione condannando non l'ontologismo commentale ma una sua particolare forma dobbiamo giungere che dal punto di vista teoretico la critica di tale forma era stata proprio uno degli obiettivi essenziali della teosofia rosminiana sempre procedendo flash anche perché il tempo è quello che è cito Salman perché mi pare che rilanci in termini interessanti la questione dell'ontologismo due citazioni lunghe ma mi sembrano importanti per capire un po' la posta in gioco dice nel paragrafo conoscere il mondo in Dio per una nuova versione dell'ontologismo lo trovate in passi e passaggi nel cristianesimo piccola mistagogia verso il mondo della fede dice vi è una circolarità tra le due movenze del pensare e del conoscere da un lato conosciamo Dio per via del mondo a modo di un'illazione di un invio simbolico di un'ascesa simbolica ma appunto queste forme di approccio non possono giungere alla loro meta il mondo limitato non può essere concepito come tale senza l'orizzonte infinito la luce intramontabile di una verità presupposta mondo e conoscenza risultano con creazione di una compresenza del principio di ogni essere nonché della sua esperienza non già che avessimo una conoscenza diretta e tematica del divino prima della percezione della realtà contingente come lo asserisce l'ontologismo giustamente sospetto di un Gioberti non di meno è grazie alla luce del divino che intravediamo le cose noi stessi anche se non ce ne accorgiamo alla tua luce vediamo la luce citta il sanno 36 Dio è il primo conosciuto sul piano trascendentale non su quello categoriale l'intento del nostro piccolo contributo è quello di voler indicare e individuare alcuni tipi e tappe di un tale ontologismo ortodosso che potrebbe aiutarci a tenere insieme teologia filosofia e mistica conoscenza del mondo e visione di Dio giustificando così uno stile di concepire il rapporto tra la contingenza e l'eterno che è stato sottovalutato e persino scomunicato e mi pare un buon segno che le condanne inflitte a Rosmini ultimamente sono state revocate questo gesto del magistero potrebbe incoraggiarci a rivedere una storia tanto tormentata quanto promettente leggo infine la definizione che lui dà di ontologismo cristiano una tale concezione ontologico trascendentale della visione del mondo in Dio e di Dio come orizzonte e presenza concomitante della coscienza umana e della conoscenza del contingente parte dalla e finisce con la intuizione che solo a Dio spetti la prima e l'ultima parola nonché il primato sul piano ontologico e ognoseologico solo Dio si intende da sé in sé tutta la sfera del contingente si conosce e conosce alla luce della presenza rivelata un tale a priori non va frainteso nel senso di una visione immediata e diretta dell'essenza della luce divina preferiamo parlare di un elemento fondante e attematicamente immediato che si realizza soltanto in mezzo ad ogni conoscenza contingente del contingente che tuttavia si sa tale solo grazie a quell'orizzonte e che poi nella sua autoriflessione può cogliersi come riverbero del verbo divino come riflesso della luce divina come autopresenza libera concessasi ecco giungiamo velocemente alle conclusioni ecco presentiamo la proposta per esempio il lancio dall'idea dell'ontologismo ortodosso tra l'altro se qualcuno come suggerisce anche del noce ha un termine migliore ben venga come ecco la posizione di pensiero che esprime l'apertura della soggettività all'originario e alla fenomenità di tutti i fenomeni posizione di pensiero in cui la possibilità del fenomeno saturo per rileggere in termini marioniani esprime la radicalità dell'apertura della soggettività all'eccedenza come dire della fenomenalità in qualche modo la persona è aperta alla possibilità del fenomeno saturo alla possibilità dell'impossibile che si dona gratuitamente l'ontologismo eterodosso invece come visione diretta e immediata di Dio quale ragione radice di conoscenza radice condizione della possibilità di ogni conoscenza ecco a me pare che in Rosmini sia possibile una rilettura di tipo fenomenologico sia possibile una rilettura della fenomenologia della donazione che vada ben oltre all'ipotesi di Jean-Luc Marion e che possa dare anche una come dire una giustificazione molto più radicale alla prospettiva fenomenologica che lui propone e credo che come dire questo possa essere anche un modo per rilanciare il pensiero del roveretano di Rosmini nel moderno postmoderno e il tema dell'ontologismo ci pare interessante perché mi pare interessante perché ripropone rilancia da questo punto di vista un'altra idea di oggettività del perso oggetto un'altra idea della soggettività e possa fare anche da perno da suo strato ontologico a una nuova anche fenomenologia dell'umano a una nuova antropologia che possa definirsi come antropologia filiale di